Secondo l'accusa avrebbe trasferito capitali in paradisi fiscali per evadere le tasse ed occultando così alla fisco circa 22 milioni di euro. Per questo è stato denunciato un imprenditore delle scarpe di alta moda valdarnese. Attraverso uno scrupoloso lavoro le fiamme gialle della compagnia di San Giovanni e Valdarno sono riuscite ad individuare un imprenditore che aveva solo formalmente trasferito la propria residenza all'estero e che attraverso gruppi di imprese intestati a propri familiari e prestanomi con raminificazioni in paesi esteri anche a fiscalità privilegiata realizzava e vendeva calzature di alta moda. Le attività tra le varie società venivano gestite da una sede nel Valdarno mentre alcune di queste società erano ubicate in stati alcuni dei quali anche fiscalità privilegiata. I finanziari ricostruendo i flussi finanziari tra le imprese coinvolte sono riusciti a disarticolare l'intera organizzazione ramificata in holding e società controllate. Tramite questa organizzazione societaria appunto il denaro veniva fatto confluire in questa società di diritto estero e di fatto in Italia veniva persa gran parte della base imponibile prodotta dalle società. Sette le imprese sottoposte a verifica fiscale da parte dei finanzieri che hanno permesso di individuare arredditi occultati al fisco per oltre 22 milioni di euro. Sono stati inoltre proposti per il sequestro preventivo beni e disponibilità economiche per oltre 6 milioni di euro mentre 500.000 sono già stati sequestrati. Oltre all'imprenditore valdarnese sono stati denunciati anche tre suoi parenti. Le accuse sono di vari reati fiscali e autoriciclaggio.